Un protocollo d'intesa per prevenire le truffe e i danni delle persone anziane. Lo hanno siglato il prefetto e il sindaco di Potenza. Il progetto Non da soli due prevede azioni integrate per rafforzare il contrasto al fenomeno. Le denunce per questo tipo di reati intanto sono in calo rispetto al 2019. Alessandro Salveti. Numeri positivi ma non c'è da abbassare la guardia. Le truffe e frodi informatiche agli anziani sul territorio potentino sono sempre meno. Lo confermano i dati diffusi dalla prefettura riferiti ai primi sette mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019. Ultimo termine di paragone preso a riferimento prima dell'emergenza sanitaria. Il calo delle denunce del 15,8% per quanto riguarda la provincia del 9,2% invece riferito a Potenza Città. Una flessione inferiore però rispetto a quella che caratterizza il totale dei delitti. Per questo le azioni di prevenzione e contrasto sono destinate a proseguire. Come dimostra anche il protocollo d'intesa sottoscritto a questo scopo da prefetto e sindaco di Potenza. Si parlano a caso in questo caso di un doppio danno che tocca gli over 65 in modo particolare e in gergo tecnico di una vittimizzazione secondaria. Cioè al danno economico c'è anche un danno psicologico. Molto spesso si fa leva sui loro sentimenti, sugli affetti più cari per cercare di estorcere denaro in una maniera davvero misera. Quindi va benissimo questo protocollo e ci sforzeremo non solo oggi ma tutti i giorni in tutti i modi possibili per far sì che questo fenomeno venga accantonato. Con questo accordo il Ministero degli Interni affida al territorio un servizio di prossimità e vicinanza alle fasce più vulnerabili della popolazione. 16.000 euro l'importo stanziato a favore del Comune di Potenza per campagne di comunicazione e sensibilizzazione. Tra le iniziative uno sportello di ascolto per dare consigli e fare da congiunzione tra le vittime e le forze dell'ordine. Il metodo classico di abbordaggio restano le telefonate ma sempre più esche sono predisposte anche online. I truffati mediamente sono per lo più uomini di età compresa tra i 65 e i 70 anni.